Buonasera a tutti, questa sera parliamo di nuovo di Olympus Pen, non quelle adesso, quelle elettroniche digitali, ma le vecchie Olympus Pen F-T, poi c'è stata anche la F-V. Io già vi ho parlato di questa macchina fotografica che è veramente eccezionale, perché in dimensioni relativamente ridotte, almeno per l'epoca dove le macchine fotografica a pellicola erano abbastanza ingombranti, Maitami, il progettista dell'Olympus, il capo progettista dell'Olympus, riuscì a progettare una macchina a mezzo formato reflex, però che questa è una reflex, non c'è il pentaprisma, ci sono una serie di specchi all'interno che permettono di avere una visione reflex. Ora, queste macchine fotografiche non erano proprio delle spy camera, perché c'erano le Minox, che erano più piccole le macchine, proprio delle spie vere e proprie, però queste qua comunque accoppiavano una buona qualità, un'ottima qualità, nonostante si trattasse di mezzo formato, con una dimensione abbastanza ridotta, ma la cosa importante è che la macchina, pur essendo reflex, non avendo il pentaprisma, è molto infilabile dappertutto, anche in una tasca, anche se c'è una tasca bella grande, insomma. Ora io non mi ricordo esattamente il film qual era, ma se non sbaglio era un film di James Bond, non mi posso ricordare perché è un film che ho visto perlomeno una decina di anni fa, che praticamente una delle spy aveva fatto delle fotografie e aveva un Olympus Pen F come questa. Poi che aveva fatto? Aveva smontato l'obiettivo, aveva avvolto della carta e l'aveva infilata in una ringhiera, una ringhiera fatta a tubo, e ci aveva infilato dentro questa Olympus Pen F con tutto l'obiettivo. E poi veniva, se non sbaglio, Sean Connery, però ricordo di un film che ho visto molti anni fa e che non l'ho più trovato, e recuperava la macchina fotografica, è in verità anche l'obiettivo. Quindi questa è anche una macchina fotografica che può essere usata per la sua piccolezza senza farsi notare troppo. Bene, perché ve ne parlo un'altra volta? Perché vedete, le Olympus Pen FFT-FV erano corredate da un sistema ottico completo, cioè dal grandangolare al super teleobiettivo, agli anelli di prolunga, di inversione, ai soffietti, insomma, è una cosa completissima, mai più replicata per un mezzo formato. E fra i vari obiettivi che ci sono, che hanno prodotto, io ho il 100 mm, questo qua, vedete? Questo zuico qua, 100 mm F3.5, un bellissimo obiettivo, uno, due, tre, quattro, cinque lenti, e questo obiettivo ha una particolarità, equivale a un 140 circa rispetto a formato pieno, ma ha una particolarità di essere piccolo, molto piccolo. E cosa comporta questo? Comporta che se voi usate questo 100 mm dell'Olympus, con l'Olympus Pen che è già abbastanza piccola di per sé. E i 100 mm potete fare della street photography senza essere notati, o perlomeno essendo poco notati, perché le persone, ovviamente, vedendo una macchina abbastanza piccola, obiettivo veramente piccolo, non vanno a pensare che essendo equivalente a un 140 mm, quindi diciamo un bel fattore di ingrandimento, stanno fotografando proprio a loro. Questa è la particolarità. ed è quello che ho fatto, praticamente. E adesso vi faccio vedere, dal vivo, l'Olympus 100 mm sull'Olympus Pen FT. Questa qua, vedete, a differenza di quest'altro Olympus, della Pen F, ed anche delle altre Pen FT, non è metallizzata, ma è nera. E questo comporta che la macchina di questo colore è decisamente più rara e più costosa rispetto a quella metallizzata, ma le macchine sono perfettamente identiche. Ovviamente non potevo vivere senza avere anche l'Olympus Pen nera, la FT in questo caso, e quindi c'ho la pen F cromata e la pen FT nera, oltre a quell'altra che avete visto. Vabbè, lasciamo stare. Quindi cosa ho fatto? Ho usato questo 100 mm come obiettivo per la street photography e ho fatto un poco di esperienza. Di che cosa mi sono accorto? Che effettivamente nel 90% dei casi, 95% dei casi, le persone non si accorgono di essere fotografate. Ovviamente quali sono i posti migliori per fotografare senza farsi accorgere con un complesso così che non dà troppo nell'occhio? Beh, evidentemente dove c'è molta gente. Dove c'è molta gente e allora magari una piazza e così via, con una cosa del genere, chi vi vede perché potete camminare nudi e non vi notano, ma se camminate con una macchina fotografica e puntate all'obiettivo, tutti quanti stanno a guardare e pensano che cosa vorrà fare questa persona. Ma se state in una piazza dove c'è molta gente, il soggetto fotografato non può immaginare che è stato inquadrando proprio a lui o proprio a lei, perché è tale la distanza che penserà che è stato fotografando la piazza con tutte le persone e quindi si sentirà un poco più rilassato. In proposito, quali sono le difficoltà che ho incontrato? Mi sono reso conto di una cosa, che la messa a fuoco deve essere veramente precisissima, perché basta poco e si sfoga. Essendo un 100 mm, comunque ha una profondità di campo abbastanza ridotta, pur essendo un mezzo formato, quindi alcune foto non sono riuscito proprio a beccare esattamente la messa a fuoco, perché poi comunque è fatta di fretta, perché non volevo perdere il momento. E quindi alcune sono leggermente sfocate, non sono riuscito a prendere esattamente la messa a fuoco, anche col diaframma più chiuso la cosa non mi ha aiutato. Altre invece sono venute veramente a fuoco, cioè veramente bene, perché sono riuscito anche ad azzeccare l'esatta messa a fuoco. Quindi questo 100 mm F3.5 per l'Olympus Pen può essere usato come obiettivo per la street photography. Poi c'è un'altra particolarità da considerare. Questo mezzo formato le fotografie le fa tutte quante in verticale, se volete fare foto in orizzontale dovete girare. Questo però, che può sembrare uno svantaggio, è un vantaggio soprattutto per i ritratti, perché i ritratti nel 90% dei casi vanno fatti in verticale, non in orizzontale. A meno che non siano più persone, allora è così. Se vedete i quadri, per esempio, vedete la stragrande maggioranza dei ritratti sono tutti fatti in verticale, non sono in orizzontale. Mi viene in mente una cosa che c'è un'amica, non faccio nome per carità di patria, che insegnava storia dell'arte, adesso sta in pensione e non sapeva sta cosa. Vabbè, lasciamo sta. Comunque, il fatto che le immagini siano in verticale, sicuramente è un vantaggio, non è uno svantaggio, quando si vogliono fotografare delle persone. Ancora una cosa da dire, vedete le fotografie, alcune le ho fatte con il 38mm, regolente grossomodo al 50mm, altre le ho fatte con questo 100mm. Qualcuna è sfocatella, ma ho preferito farla rimanere in modo che si vedesse anche questa situazione qua. Ci sono due situazioni che voglio sottolineare. Mentre camminavo con la mia bella Olympus penne nera, suscitando l'invidia di tutti quelli che mi vedevano, credo, sono arrivato a Piazza Tante a Napoli e c'era una manifestazione di ragazze seminude, se non proprio nude, con dello scotch, erano coperte più che altro da nastro adesivo, nelle parti insomma più visibili. E sostanzialmente era una manifestazione contro l'ostrutta mente intensivo delle mucche. non ne sapevo niente, in verità mi sono informato e mi hanno raccontato cose che se sono vere sono davvero incredibili, perché io capisco pure che si debba produrre latte, tutte queste cose eccetera eccetera, ma credo che la stessa cosa si possa ottenere senza arrivare alle crudeltà che mi hanno raccontato. E quindi ho potuto usare il 100mm su queste ragazze che manifestavano praticamente seminude. E quindi vedrete anche le fotografie. Anche qui qualcuna è venuta proprio leggermente sfocata, ma le altre sono venute veramente bene. La stragrande maggioranza le ho fatte con questo 100mm, qualcuna con 50mm. Era pure una situazione complicata, perché erano in controluce, in controluce pieno, praticamente avevano solo alle spalle. Un'altra cosa comica, poiché l'esposibile di questa macchina, insomma ci sta, l'EFT c'ha l'esposibile incorporato, ma non c'è molto da fidarsi, c'era una donna vicino a me che scattava con la digitale e a un certo punto adesso gli chiedo, vedevo che le foto venivano ben esposte, gli chiedo che tempi e diaframmi stavo usando. Quindi ho fatto una domanda, ma che tempi e diaframmi stai usando, hai dato il tu perché più o meno c'avevo la mia età. Ha fatto lei, ha fatto eh, veramente non lo so, non lo so, ma era pure una buona macchina digitale, non è che era una costina di quattro soldi e non sapeva, insomma, la macchina e cosa stesse impostando, quindi punta e scatta nel vero senso della parola. Alla fine me ne sono andato un po' a intuito, considerando il sole, considerando il controluce e l'esposizione è venuta correttamente. Quindi vedrete queste ragazze praticamente nude che manifestano contro lo sfruttamento intensivo di queste mucche per produrre latte. Altra cosa, vedrete qualche altra fotografia di una persona con gli occhiali, che però l'ho fatto col 50, che si chiama Jack. Questo Jack ve lo voglio raccontare perché questo Jack è un polacco, non so come si chiama realmente. Questo signore ogni tanto viene a Napoli dalla Polonia, viene e compra una serie di cose in Polonia e le rivenne a Napoli ai mercatini in mezzo alla strada, lo conosco da anni. E quindi troverete anche lui in queste fotografie e devo dire la verità, fatte con 38 mm, sono venuto veramente belle fotografie. Bene, allora che cosa mi resta altro da fare? Non mi resta altro da fare che farvi vedere le fotografie, stritto fotografi, chiamiamoli così, ma sono delle prove, fatte con l'Olympus Pen FT, in questo caso qua, e il 100 mm. Vedrete che le persone praticamente non si sono assolutamente accorte, solo uno si è accorto che lo fotografavo, di quello che stavo facendo. Poi ci sono altre persone in realtà che ho inquadrato chiaramente e quindi si accorgevano che stavo facendo la fotografia e quello si vede che sono state chiaramente fotografate accorgendosi di essere fotografate. Bene, credo non ci sia null'altro da dire, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.